Oggi ha fatto 40 mililitri di pioggia in un'ora, un'ora e mezza questa mattina e quindi evidentemente l'intensità della pioggia ha causato particolari disagi alla viabilità e ovviamente ha bloccato in alcuni casi anche i sottopassi che usualmente sono appunto interessati a questi fenomeni. Il Comune di Fanno ovviamente interviene, programma la pulizia delle caditoie e in alcuni casi sono interventi risolutivi, in altri invece ci sono problemi strutturali come ad esempio al Lido e vorrei anche comunicare che nel caso di emergenza, nel caso dei cittadini volessero segnalare la pulizia di alcune caditoie, ovviamente il Comune interviene in tempi rapidi, soprattutto se segnalata l'urgenza e i cittadini possono direttamente contattare Aset Spa che fa questo servizio con noi oppure il Comune che poi girerà la richiesta appunto ad Aset. Ovviamente noi seguiamo un programma e nel prossimo mese inizieremo dell'attività di pulizia a tappeto in alcune zone ovviamente della città, in particolare in questo mese ci concentreremo sul Lido, ci concentreremo sulla località Paleotta e sulla Gimarra. In particolare le vie interessate saranno via Mezzagostini, via Nicolò D'Affano, via Girolamo D'Affano via del Moletto, via della Baia, via del Passetto, via le Carducci, via Spontini, piazzale Amendola Simonetti, via le Cairoli, via le Trento, via le Gorizia, via Trieste, piazzale dei Calafati via Franceschini, via dello Squero, via Nazaro Sauro e anche alcune segnalazioni che ci vengono fatte puntualmente come a bell'occhi o in altre situazioni particolarmente preoccupanti perché magari ci sono stati degli eventi che hanno otturato le caditoie. Ovviamente oltre a pulire le caditoie, Asespa, secondo il contratto che abbiamo stipulato, pulisce anche e spurga il collegamento alla linea principale delle condotte.